Cinescatti è una due giorni dedicata ai ragazzi e ragazze che vivono a Bologna in città metropolitana ed è un concorso, una Bologna inedita da scoprire attraverso una macchina fotografica per scoprire luoghi che possono servire alle produzioni cinematografiche e televisive. Un workshop fotografico che si inserisce nelle attività di impronte digitali. Un percorso formativo gratuito per 15 ragazzi, stavolta tra i 18 e i 25 anni, che avranno l'opportunità di seguire una formazione artistica. Un workshop di fotografia fondamentalmente con un fotografo che si chiama Filippo Romano, con cui la collaboriamo da tanti anni, che si occupa di fotografia di architettura, paesaggio urbano e fotografie di interni. Gli scatti migliori verranno selezionati e andranno ad aggiungersi alla location gallery della Film Commission dell'Emilia Romagna. È uno strumento a disposizione di tutte le produzioni audiovisive e cinematografiche che devono scegliere una location dove ambientare la propria opera. E quindi è un modo sia per imparare a scattare foto di interni e di esterni di architettura, attraverso e insieme a dei professionisti. C'è questa possibilità di entrare a far parte del database della Emilia Romagna Film Commission, che insomma tutto insieme creerà sicuramente una o due giorni molto intensa e speriamo con grandi aspettative.